Carissimi amici ed amiche, salve a tutti, grande eco per ieri per la puntata di quarto grado dove si è parlato del caso di Liliana Resinovic e magari domani con molta più calma vi dirò come sia davvero triste pensare come il gossip sfrutti una sorta di credulità popolare all'ennesima potenza. Quindi per questa giornata di sabato vi voglio soltanto lasciare con una sola delle dieci considerazioni di questo caso che dovrebbero far riflettere sul punto e dovrebbero indurre a pensare diversamente e mi dispiace davvero che molte persone in buona fede siano cadute in delle considerazioni del tutto fuori luogo. Quindi vi lascio soltanto con la prima considerazione, solo la prima come se fosse un'introduzione. Ecco, vi lascio con questa anteprima di un discorso più generale che fa lì. Quindi per quanto riguarda appunto questi messaggi si dice che questi 600 sono solo una parte dei messaggi quindi ne saranno oltre mille. Ci riferiamo a questi messaggi criptati dell'ultimo anno, sempre messaggi criptati e cancellati come messaggi d'amore vengono spacciati però guarda caso appunto ristretti all'ultimo anno. Perché questo? Ecco, vi vorrei far riflettere sul perché che forse non c'erano pure gli stessi nell'anno 2020, nel 2019? Perché è stato fatto solo nell'ultimo anno? C'è un motivo e questi messaggi ci sono uguali anche nel 2020, anche nel 2019. E allora ecco la prima grande contraddizione e difficoltà in cui si trova proprio lo sterpin e anche penso coloro che credevano di fargli un piacere svelando questa specie di messaggi che gli hanno fatto un boomerang clamoroso sotto più punti di vista, diversi punti di vista. Se questi tipi di messaggi vengono fintamente attribuiti all'amore, essi ci sono a valanga anche nel 2020. Il 30 è quello, tale e quale nel 2020, forse anche prima. Ed allora a che gioco giocavano anche nell'anno precedente o negli anni precedenti? Perché dico questo? Perché la moglie Palmira, tanto amata e onorata e rispettata dallo sterpin, è morta a fine dicembre 2020. Ci siamo? Ed allora vogliamo dire che tanti messaggi d'amore sono stati fatti comunque sempre in pieno matrimonio, anche da parte dello sterpin. Allora non ci meravigliamo, non ci diciamo come. Lui dice che bisognava aspettare quel fatidico 19 dicembre in onore di un anno dalla morte della moglie, per rispetto di un anno dalla morte della moglie. Ebbene, qual era il rispetto allora? Perché non ci spiegano qual era il rispetto? Non ce lo spiegano. Ebbene, qual era? se poi questi messaggi devono essere interpretati con amore ti amo, ti amo amore, amore ti amo, ti amo amore sempre, più volte al giorno, anche nel 2019 e 2020? Ecco, questa è la domanda. Perché avete fatto quindi la ricerca solo dell'ultimo anno? Per quale motivo? Perché lo stesso anche in precedenza? Però ciò va, andrebbe e va a sporcare l'immagine di sterpin, che si è sempre detto fedele e innamorato della moglie Palmira, fino alla sua morte almeno. Eh? Ce lo siamo dimenticati questo, ce lo siamo dimenticati. Ecco perché dico anche per questo, anche per questo è un boomerang clamoroso. oggi l'informazione del gossip, cosa intende celebrare? Cosa? Cosa intende far apprendere, approfondire dall'opinione pubblica? Potrebbe far applaudire, applaudire cosa? Un anziano che tradiva la moglie. Ecco, tradiva la moglie, quindi anche nel 2020 e prima, con Liliana che tradiva il marito. Questa è l'idea che si vuole inculcare, i gossip che vuole inculcare. Quindi una sorta di monumento al valore del tradimento coniugale. Tutto è da applaudire al tradimento coniugale. Questa è una vergogna, ma una vergogna non in quanto tradimento, ma di voler trascinare nel fango il nome di Liliana Resinovic. Questo è il fango. Una donna seria, diservata, istruita, era una funzionaria di buoni valori, lavoratrice. E così farla andare in una storia squallida, senza che si possa più difendere o smentire, è una storia che non esiste. E anche per questo motivo che bisognerebbe chiedere, chiedere davvero a Serpino, non so se la procura lo potrà fare, a quale gioco giocavano in questi anni, non l'ultimo anno, in questi anni? A che gioco giocavano, anche quando la moglie era viva? A qual era il gioco? Che significato potevano mai avere messaggi cifrati e comunque cancellati subito, messaggi cifrati e comunque cancellati subito. Forse è nulla, per carità nulla di male, ma solo lui comunque potrebbe dire quale gioco giocavano. Anche se oggi credo che Serpino sia in enorme difficoltà, perché lui non ha mai parlato di messaggi e di tanti messaggi, perché certe cose ce le dicevamo da vicino. Questo è un cattivo servizio per lui, perché come giustifica? Che rispetto aveva allora per la moglie, così tanto idolatrata? Ecco, ce lo siamo mai chiesti questo? E bisognava attendere quel fatidico 19 dicembre per la luna di miele, per poter andare via, per rispetto, per rispetto alla moglie Palmira. Possibile mai? Rispetto di cosa? Ecco, questa è solo l'anteprima, uno, il primo della decina di motivi per i quali questa valanga di criptazione ha il significato di un gioco, diciamo, che non è stato ancora spiegato e che lo stesso, purtroppo, lo stesso marito Sebastiano o per confusione mentale o per viltà è pronto ad accettare pur di non avere fastidio. Quindi questa è solo l'anteprima sulla quale vi voglio far riflettere come anteprima quest'oggi, poi ne parleremo in un video molto più lungo. Grazie e un abbraccio a tutti quanti voi.